Sandro, sei tornato a Capodorlando ma è come se non fossi mandato via, c'è continua questo incredibile feeling tra te e Capodorlando? Sicuramente è una bella sensazione comunque tornare a Capodorlando come tornare a casa, trovarsi tra gli amici e certamente i due mesi che sono stati assenti sono passati velocemente. Volevi tornare qui per giocare in una categoria che vi siete conquistati sul campo? Volevo tornare qui per giocare a Capodorlando, poi che categoria era? A me non mi cambiava molto, ormai a questo punto era più il godere di giocare la pallacanestro in una città come Capodorlando. La squadra si è rinnovata ma ha mantenuto la struttura della scorsa stagione con te, Arci, Baso e Teo, si ricomincia da dove abbiamo lasciato con lo stesso entusiasmo? Si continua con lo stesso entusiasmo, la squadra è cambiata molto, la struttura della squadra è completamente cambiata, è vero che ci siamo Arci, Basile, te o io ancora, però ormai la base della squadra formano altri giocatori, sperando che saranno a livello per fare la stagione forte come la desideriamo. Sabato c'è la prima amica e voleva della pre-season, c'è voglia di iniziare? Certo perché per noi giocatori allenarsi non è una gran che, ci alleniamo tutti per giocare le partite, questa partita comunque ci darà una visione sulla squadra come dovrebbe essere, speriamo che ci saranno dei tifosi che ci sopporteranno e andiamo avanti.